Beh, questa sera siamo tristi, appena finita la partita, una sconfitta che non ci voleva per il cammino che stava intraprendendo la Lazio, ma una sconfitta che ci sta pure al limite perché la Serenitana ha fatto una grandissima partita, ha giocato un discreto calcio, la Lazio ha avuto la possibilità su 1-0 con Vesino, migliore in campo secondo me che si ha mangiato due gol ma sicuramente migliore in campo, all'inizio del secondo tempo potevamo andare 2-0 e cambiava la partita, migliore in campo Vesino, migliore in campo per la Serenitana Manganiello da Trigoria. Non sono abituato a parlare male degli arbitri, a dare la responsabilità agli arbitri di un'eventuale sconfitta, ma questa è clamorosa, ci toglie un giocatore, che te lo dica a fare, un giocatore come Milinkovic per il derby, su un'azione dove Milinkovic lo ammonisce, dove Milinkovic prende fallo, cioè il fallo è su di lui per un'entrata del giocatore della Serenitana e l'arbitra ammonisce, sembrava fatta apposta. Ripeto, non voglio dare la responsabilità dall'arbitra della sconfitta della Lazio, ma questa mi sembra veramente esagerata. Dimenticavo di salutare tutti gli amici della Lazio.com, una buona serata, anche se questa volta è andata così.